ciao a tutti ragazzi buonasera questo sarà un video un po strano è un po di presentazione di quello che voglio fare nel prossimo periodo come ben sapete sono un giocherellone mi piacciono i giochi da grandi come ad esempio le fotocamere come i telefoni cellulari come il monopattino tutto quello che riguarda la tecnologia ed è proprio per questo che ho aperto il canale di solo cose 9 su youtube ma anche su instagram facebook e il sito web solo cose 9 punti dove potete trovare tutto quello che riguarda questo mondo incredibile di solo cose 9 ma tornando a noi sono un giocherellone stavo dicendo mi piacciono i giocattoli di tutti i tipi i giocattoli per grandi per piccoli per anziani anche giochi da tavola veramente tutto mi piacciono i giochi di carte mi piace tutto non so se vi ricordate che qualche tempo fa ho acquistato questa macchinina radiocomandata che tra l'altro è bellissima e ogni tanto la utilizzo con mia figlia ci stiamo facendo veramente delle bellissime giocate insieme proprio per questa ragione perché mi piacciono i giochi e questa cosa io l'ho sempre portata con me anche sul piano musicale come qualcuno di voi forse sa sono un produttore di musica abbiamo un etichetta discografica sono un artista spero di potermi definire musicale perché compongo musica e con il mio gruppo abbiamo fatto anche diversi videoclip ma questa è un'altra storia quello di cui volevo parlarvi oggi è questo queste sono delle fantastiche pistole nerf sono delle pistole giocattolo come potete vedere ma sono veramente spettacolari bellissime e da tenere in mano sono una forza veramente una forza non voglio parlarvi di queste nello specifico perché non ho solo queste ne ho altre ne ho un'altra 50 lata di là nell'altra stanza e un sacco di accessori di cose belle con cui giocare a cui sparare mi diverto un sacco non le sto usando praticamente più perché purtroppo non ho tanto tempo da dedicare a queste cose ma ho trovato che sono un'ottima valvola di sfogo quando si è un po stressati infatti ricordo un giorno che le portai in studio di registrazione che io il mio socio eravamo un po stanchi di varie situazioni che possono succedere dal punto di vista artistico e produttivo insomma eravamo un po arrabbiati però non posso dire delle parole non posso dire le parolacce o comunque non mi piace quindi diciamo diciamo che eravamo un po stufi e abbiamo giocato con queste cose qua e ci siamo ripresi ci siamo divertiti abbiamo ascoltato la musica c'era siamo proprio scialata è stato veramente un momento fantastico quindi io oltre a giocarci e ad avere dei bei momenti con queste cose ho dei ricordi che che mi legano queste cose che mi mi piacciono e insomma mi fanno stare bene ma non di meno è bello tenerli in mano ti fanno sentire potente in un certo senso ed è divertentissimo insomma ovviamente a me è sempre piaciuto fare il tiro al bersaglio e non voglio però fare un elogio alle armi in generale perché queste sono armi giocattolo e quello che mi piace a me è che sono armi giocattolo a me le armi normali non piacciono spero che in futuro non ci sia necessità alcuna di utilizzare le armi di avere delle armi sono contro le armi insomma in qualsiasi forma e dimensione o cose per offendere benché ne capisca l'attrattiva perché negli anni ho sempre amato anche che ne so le cose giapponesi voi lo sapete che mi piace tanto il giappone quindi le katane stelle ninja shuriken piuttosto che non chacu eccetera ho anche fatto arti marziali per tantissimi anni quindi fondamentalmente certe cose mi piacevano un sacco ma come a tutti i bimbi immagino ma qua dietro c'è veramente un mondo ci sono varie tipologie di gioco quindi si può giocare agli zombie questa qui è della serie zombie ad esempio si può giocare a capture the flag quindi cattura la bandiera che è una tipologia di gioco insomma a capa bandiera non so se ma con le armi come si fa nei vari giochi punta e spara su computer e poi ci sono una serie infinita di personalizzazioni che le persone fanno per utilizzare questi oggetti qui in cosplay ed è interessantissimo perché poi se voi andate ad esempio a luca comics potete utilizzare queste che sono che sono ovviamente delle armi giocattolo ma che sono già pre costruite e ti danno un'ottima base a un prezzo molto basso per avere delle delle armi finte ma veramente fiche e anche funzionali perché sparano proiettellini quindi si possono creare delle belle situazioni giocando tutti insieme i proiettili di solito se non erro viaggiano sui 27 metri al secondo al massimo non sono così veloci da far male chiaramente evitate di spararveli negli occhi però negli altri posti insomma non fanno così male l'ho sentito il colpo ma non fa male ed è una roba divertentissima è una roba della quale volevo parlarvi da un po io ne ho diverse magari andremo a esaminarle una per una non farò dei video così precisi come fa coop 772 che insomma si chiama frank è quello più assolutamente competente di questa materia perché ne ha una squintalata gigantesca di queste armi giocattolo ed è un americano se volete andare a vedere sul canale ve lo lascio qui è molto interessante se vi piacciono le armi giocattolo ad ogni modo ragazzi io ne comprate già troppe ne comprate già troppe per la mia età però mi piace e mi diverto le abbiamo usate anche con mia moglie quando era incinta abbiamo fatto dei tiri a segno le usiamo ogni tanto con mia figlia lei già da piccolissima a due anni ma un anno e mezzo già gli ero date in mano lei ha iniziato a sparare ogni tanto mi diceva papà giochiamo coi colpi coi colpi così e quando le vede deve per forza prendere sparare qualche colpo e questa cosa un pochino mi preoccupa perché è una teppista però fa parte della vita e ci divertiamo anche così quindi ragazzi grazie a tutti di avermi seguito anche per oggi vi ricordo che se vi è piaciuto il video potete mettere un like iscrivervi al canale attivare la campanella per non perdervi altri contenuti di questo tipo qua e legati alle nerf gun forse non l'ho detto queste pistole si chiamano nerf che è un'azienda americana ha iniziato a fare pistola d'acqua e poi è passata a questi prodotti qua fa ancora pistola d'acqua e anche pistole sparamacchinine insomma fanno cose eccezionali questa è una pistola un po diversa si carica così comunque adesso lo sparerò qualche colpo perché visto che lo tirate fuori devo sicuramente divertirmi un attimo a utilizzarle se non le utilizzo veramente mai cosa in più che posso dirvi non le ho mai utilizzate all'esterno giocando con le persone o con altre persone di solito le utilizzo giocando da solo perché non c'è mai nessuno che vuole giocare con me perché non c'è mai nessuno che vuole giocare con me sono molto triste per questa cosa e le ho utilizzate per un videoclip dei the boring death che magari vi lascio qua e che insomma è stato divertentissimo in quel caso utilizzammo questa principalmente e poi la jolt che è la pistola più piccola in assoluto nella fase finale del video e ci travestimo da zombie fu una roba pazzesca veramente ci divertimmo un mondo spero di continuare a fare delle cose divertenti come quella e anche come questa quindi di presentarvi questi prodotti strani e magari un po sciocchini ma che a me piacciono un sacco quindi grazie a tutti di essere stati con me anche oggi un saluto ciao grazie a tutti Grazie per la visione!